La volta scorsa, il giorno di Pentecoste, abbiamo un po' tralasciato quel cammino preso dal Gesù di Nazareth che riguardava il memoriale, che è una realtà molto importante perché in effetti anche il riferimento alla memoria può essere negativo o salvifico, se vi ricordate, perché se una persona è legata al passato può diventare uno schiavo del passato, ma se si scordasse il passato sarebbe un problema perché non avrebbe identità. Una persona che non sa, non ricorda più il passato è una persona a parte che ripete gli stessi errori sempre, però non accumula esperienza, per cui giocare col passato è molto anche delicato ma necessario. Il Signore lavora molto sul tempo perché ci salva nel tempo, quindi il tempo non è solo una realtà umana ma è una realtà salvifica. Per cui è importante che anche il tempo noi lo consideriamo non come una cosa privata nostra, ma il tempo è il luogo, tra virgolette, dove lavora Dio. Per questo tante volte bisogna non scordarsi del passato, ma fare in modo che il passato si riferisca in modo produttivo al presente per realizzarlo nel futuro. Ecco, le promesse che quando vi siete sposati avete fatto, o ancora prima, la promessa di quando due persone si sono innamorate e hanno per la prima volta messo insieme la loro vita, non vanno scordate. Perché? Perché quello sono una matrice che li guida verso il futuro, solo che vanno trattate in modo progressivo. Ecco, mentre tante volte due coniugi si scordano del passato perché la loro vita si sviluppa male e quindi il presente negativo in qualche maniera fa dimenticare il passato. E non è una cosa buona. Il Signore invece non solo ha una buona memoria, ma fa in modo che le cose negative siano in funzione del positivo. Cioè le esperienze negative del passato diventano maestre di una crescita, cioè esperienza positiva. E le cose positive non si dimenticano. Per cui, questo quarto incontro sul memoriale, io ho raccolto tutti, o quei passi biblici, perché poi ce ne sono anche altri, che ci fanno capire come lo Spirito Santo opera nel tempo e fa in modo che le cose del passato, quelle utili per il futuro, le metta in risalto e quelle negative le faccia diventare invece utili per la conversione. Un brano molto famoso che Gesù ci ha dato è questo di Giovanni 14,26. Ma il Paraclito, vi ricordo che Paraclito significa colui che ci difende. Noi tante volte ci scordiamo che lo Spirito Santo non è uno Spirito generico. Lo Spirito Santo è quello che difende le persone, che difende anche i colpevoli. Cioè non si parla di difendere le persone per bene. Se per esempio una persona è nei guai, lo Spirito Santo fa in modo che quella persona sia aiutata a uscire dai guai. Cioè uno non è che ti... Mentre lo Spirito del male prima ci fa sbagliare e dopo che ci fa sbagliare dice San Giacomo, ci dice vedi fai schifo, tu sei inutile. Lo Spirito del male ragiona così. Prima ti porta a sbagliare con i ragionamenti. Quando poi tu caschi, poi ti dice vedi fai sempre schifo, sei sempre lo stesso, non ti convertirai mai. E quindi è meglio che ci levi mano e porta al suicidio. Lo Spirito di Dio invece è il contrario. Quando tu sei giù, ti dice guarda non ti confondere perché io ti aiuterò a migliorare. Ecco, quindi è uno Spirito che ti difende. È paragonabile all'avvocato difensore, ecco. È molto bello questo, sapete, perché tu ti devi sempre ricordare che quando hai un pensiero distruttivo non viene mai dallo Spirito del Signore. Mai, mai. Lo Spirito del Signore è sempre positivo. Dal male al bene. Mai dal bene al male. Mai. Quindi lo Spirito del Signore è sempre uno Spirito, vedete, il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quindi è una memoria divina per noi. Ecco, tante volte noi non consideriamo questo fatto. Per esempio, se una persona dicesse, Signore, fammi ricordare, Spirito Santo, fammi ricordare quello che dice Gesù in questa situazione, come io... Ecco, parlare con lo Spirito Santo è molto importante. Soprattutto, se come vedremo nei passi successivi, intanto andiamo nei passi successivi, così vi dico quello che avevo in mente di dirvi. Atti degli Apostoli. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito disse... Ecco, molte persone ci dicono, ma come lo disse lo Spirito Santo? Attraverso qualcuno. Ecco, noi dobbiamo capire che lo Spirito Santo parla attraverso i fratelli. Soprattutto quando sono fratelli affidabili, nel senso che significa che sono persone anche che hanno un'intenzione retta. Uno spirito proprio semplice. Ecco, perché, per esempio, se una persona ha dentro uno spirito di egoismo, uno spirito di vanità, uno spirito di narcisismo, di fatto... Non so, forse... Sì, niente, va bene. Non lo so. Ho capito, va bene. Sì. Sì, no, c'è il Twitter. Va bene. Sì. Va bene, no. Va bene, parlavamo del demonio, quindi... Qualche fastidio la va dare. Cioè, altrimenti... Scusa, noi parliamo male di lui. Scusa, fagli fare il suo mestiere. Allora, va bene, vi stavo dicendo, se una persona riconosce da avere uno spirito egoista, uno spirito, per esempio, di superbia, di rabbia, in effetti, la voce dello Spirito Santo viene anche un po' pasticciata, no? Quindi una persona deve anche capire che più il cuore è puro, più l'intenzione è pura e più, diciamo, lo Spirito Santo si fa sentire. Ecco, se noi siamo troppo frenati, che ognuno di noi ha paura mentre preghiamo, perché vi accorgete che tante volte noi per un fatto culturale non sappiamo esprimere le lode al Signore liberamente. Ecco, ci si fa fatica, perché siamo abituati ad appoggiarci sempre a preghiere scritte. Ecco, questo tante volte non ci fa percepire come lo Spirito Santo ci ispira a qualche cosa. Sulle cose sicure, scritte, ecco, tante volte viene, lo Spirito Santo ci suggerisce qualche cosa che va oltre le preghiere scritte. E quindi ci sono delle intuizioni, delle suggestioni, ci sono delle idee, ci sono delle emozioni positive che se una persona ha una retta intenzione di servire Dio, in effetti lo Spirito Santo si rivela. Ecco, tante volte succede che anche, questo succede spesso con i bambini. Ecco, tante volte i bambini hanno delle espressioni, si esprimono con noi con delle espressioni che noi riconosciamo che sono superiori alle loro capacità. Per la bocca dei bambini e dell'attanti il Signore tante volte ci dice qualche cosa. Quindi bisognerebbe sempre ascoltare attentamente quello che dicono. Non sempre, ma ci sono situazioni in cui tu riconosci che in effetti quell'espressione viene dal Signore. Quindi teniamo conto che comunque lo Spirito Santo è presente e in qualche maniera si vuole esprimere con la parola, anche con qualcosa che dice qualcuno, con qualcosa che una persona esprime. Quindi in ogni caso la cosa più importante è capire che i primi cristiani si rendevano conto che lo Spirito Santo dopo la Pentecoste, vedi siamo al capitolo 13, vi ricordo che la Pentecoste era al capitolo 2. Quindi i primi tempi loro per loro erano una novità grande, che lo Spirito Santo non parlasse solo attraverso i profeti, perché prima parlava lo Spirito Santo, ma attraverso Geremia, attraverso Isaia, una persona. Invece con la Pentecoste lo Spirito Santo è effuso su tutti, anche su chi non è cristiano addirittura. È lo Spirito universale. Allora i primi cristiani avvertivano che c'era uno Spirito che voleva dirci qualche cosa. E quindi capiscono, vedete, riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ecco, quindi è importante questa coscienza. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congetarono. Perché essi dunque inviati dallo Spirito Santo scesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro, sotto l'impulso dello Spirito. Vedete, il digiuno e la preghiera sono due segni importanti, perché la preghiera è l'apertura verso Dio, ecco, in adorazione, in preghiera, è il digiuno e il fatto che una persona vuole avere una vita, possiamo dire, sobria, un'esistenza sobria. Se andiamo avanti, atti degli apostoli, attraversarono quindi la Friggia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro, vedete, lo Spirito Santo a questo punto, mentre la suggerisce, lo Spirito Santo, qui impedisce. Ecco, tante volte, quando abbiamo un impedimento, tante volte noi non ci pensiamo che può essere lo Spirito Santo che ci dà un impedimento, perché se ci fate caso a livello culturale, noi, quando abbiamo un impedimento, noi pensiamo che sia un problema, un impedimento. In questo caso, i primi cristiani capiscono che quell'impedimento viene da Dio, cioè il Dio non vuole una cosa. Ecco, e di fatto è importante questo fatto. Cioè, vabbè, vedi col filo, uno col filo, non ti preoccupare, come ufficio all'antico, va. Sì, ok. Quindi, non so se riesco a farvi capire. Sia a livello decisionale, sia a livello anche di affrontare degli impedimenti, bisogna tener conto che c'è lo Spirito Santo. Già, il solo fatto che una persona dice, allora, mettete che io debba predicare, io devo avere la coscienza che io mi sono preparato, mettiamo, una cosa, ma devo avere la coscienza che qui c'è lo Spirito Santo e che se lui mi vuole dire, mi vuole suggerire qualche cosa, io devo essere disposto a lasciarmi guidare. Quindi posso avvertire, per esempio, nei vostri occhi, qualche cosa nell'atmosfera, mi viene un'idea. Ecco, sulla base di quello che ho preparato, io devo rendermi conto che anche lo Spirito Santo... Di meno, gain di meno. Sì, allora, vi direi, questo è importante, prendere coscienza che lo Spirito Santo può anche farmi capire che lì c'è un impedimento, tu lì non devi farlo. Vedete, aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia, giunti verso la Missia e cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise. Così, lasciata da parte la Missia, è sceso la Troide. Vedete, una persona, mettete che una persona trovi un impedimento. Deve dire, Spirito Santo, se sei tu che mi impedisci, io non lo voglio fare. Cioè, avere una reale coscienza che lo Spirito Santo sta operando. Esiste un momento in cui lo Spirito Santo non opera? No. È come se dicessimo, ironicamente, sta colomba non si riposa mai. Non si può sapere, vola sempre. Ed è importante, sapete, dire, Spirito Santo, tu sei qui, Spirito Santo, opera tu, guidami, impediscimi, fai quello che vuoi, guidami tu. E questo è molto importante. Poi il mezzo, come fa? Poi ci pensa lui, ci vediamo, ci sono suggestioni, ci sono qualche cosa. Però, in ogni caso, ho la coscienza che lo Spirito sta operando e deve operare e deve essere disposto. Se andiamo avanti, Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli, circoncisi, cioè quelli che venivano dall'ebraismo, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse fuso il Spirito Santo. Ecco, quindi per loro è sorprendente perché loro, ma anche noi, mettete che una persona ci dica io sono ateo. E poi ti accorgi che il Spirito Santo lo aiuta. E tu dici, ma come mai? Il Spirito Santo aiuta pure uno che è ateo. Certo, questa è la sorpresa. Lo Spirito Santo aiuta tutti. Se trova persone disposte, lo Spirito Santo vuole aiutare chiunque. Questa è una delle cose più importanti. Questo del libro dei giudici ci fa capire che anche nei momenti negativi, quando le persone sono scoraggiate, il Signore ci propone sempre qualche cosa che migliora la nostra vita. Come vi dicevo prima, non ci sono situazioni brutte nelle quali il Signore non vuole dare un miglioramento, se noi siamo disposti, certo, perché se noi andiamo contro. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse, il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose, perdona mio Signore, ma se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Quante volte l'avete sentito? Ma io vado in ospedale e nel Signore dico, il Signore sia con voi. Ma quale è con noi? Mio marito è stato operato alla Cistefellia. Ecco, ma se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno... Dove sono i miracoli che ha fatto pace a Pio? Dove sono le cose... Ecco, dicendo il Signore non ci ha fatto forse uscire dall'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian. Allora il Signore si forse a lui e gli disse, vai con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io. Ecco, non fare polemiche, non fare cose. Ecco, ci sono stati dei guai, anche perché il popolo era colpevole, non pensate, perché facevano un sacco di... peggio di noi erano forse. Ecco, nel senso che erano molto egoisti e tante volte cadevano spesso nell'idolatria, cioè a posto di Dio mettevano il denaro, altri idoli, altre cose. Un po' come succede ora. Qua invece questo brano riporta, vedete, lo Spirito Santo, il memoriale. Ti fa ricordare che le opere del passato non sono solo appartenenti al passato, ma quello che è successo nel passato deve incidere sul presente, essere rinnovato, quello che è il passato, e programmare un futuro perfetto. Ricordate le gesta compiute. Ora fa poi tutto l'elenco, eh, qua. Ricordate le gesta compiute dai padri ai loro tempi. E tra etene gloria, insigna nome e nome eterno. Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione, ciò non gli fu accreditato a giustizia. Giuseppe, nell'ora dell'oppressione, osservò il precetto e divenne il signore dell'Egitto. Fines, nostro padre, per lo zelo dimostrato, conseguì l'alleanza del sacerdozio perenne. Giosuè, obbedendo alla divina parola, non divenne giudice in Israele. Caleb, testimoniando nell'assemblea, ebbe in sorte parte del nostro paese. Davide, per la sua pietà, ottenne il trono del regno per sempre. Elia, poiché aveva dimostrato zelo ardente per la legge, fu assunto in cielo. Anania, Zaria e Misaele, per la loro fede, furono salvati dalla fiamma. Daniele, nella sua innocenza, fu sottratto alle fauci dei leoni. Così, di seguito, considerate di generazione in generazione. Quanti hanno fiducia in lui, non soccombono. Non abbiate paura delle parole del perverso, perché la sua gloria andrà a finire ai rifiuti e ai vermi. Oggi è esaltato, domani non si trova più, perché ritorna alla polvere e i suoi progetti falliscono. Vedete, è una bella pagina, onestamente, che ti dice, guarda, Dio ha fatto veramente cose grandi, ma tu riallaccati a queste opere e non ti preoccupare, Dio non è che si è accorciato il braccio di Dio. Rinnova le cose del passato, non ti scoraggiare, anche perché il perverso, anche se oggi è successo, domani crollerà. Vi ricordate la Madonna? Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. E' così, è molto importante. Andiamo avanti, questo è Maccabee, il Salmo 145, vedete? Di generazione, la memoria, di generazione, una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Ecco, il fatto che una persona medita, per esempio, quello che Dio ha fatto, ecco, è come se oggi lo incarna nell'oggi e dice Signore, io ti lodo per quello che hai fatto, continua a operare, io sono disponibile, continua a operare perché nel futuro si realizzi perfettamente il tuo piano di salvezza. Geremia. Vedete, il Signore rassicura le persone che vivono di sensi di colpa. Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, oracolo del Signore, progetti di pace e non di sventura. Per concedervi un futuro, vi accorgete, si spazia sempre nel tempo, dal passato al presente e al futuro. Ecco, è come se io vi dicessi tutto quello che noi abbiamo fatto nel passato, il Signore vuole che si sviluppi nel bene verso il futuro eterno, niente va perduto. Vi ricordate Salmo 56, anche le lacrime non vanno perdute, certo, e non di sventura. Per concedervi un futuro pieno di speranza, voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Mi lascerò trovare da voi, oracolo del Signore, cambierò in meglio la vostra sorte, vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho dispersi, oracolo del Signore. Vi condurrò nel luogo da dove vi ho fatto deportare. Ecco, è molto importante. Il luogo dal quale... Ecco, il passato, la deportazione, diventa un'occasione per rinascere. 1 Corinthians 11, questo qua per esempio è la seconda lettura di... è parte della seconda lettura di oggi, della messa di oggi. Ricorre sempre al passato. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo questo è il calice, calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché venga. Quindi il Signore che è eterno collega sempre passato, presente e futuro. e tante volte noi se restiamo schiavi del passato e non lo colleghiamo col presente e col futuro, in effetti tante volte questa schiavitù ci distrugge. Ecco, se una persona, mettete che una persona abbia avuto esperienze molto dolorose nel passato, se non crede che da quelle esperienze negative il Signore vuole farne un memoriale per la salvezza, cioè collegandole col presente e il futuro, per migliorare, quella persona rimane bloccata al passato e dice io sono triste, io sono nato, per esempio ho tante gente che mi dice immaginate, o le persone che sono orfane di pace di mamma. Mettete che una persona nasca, come tante volte mi è capitato, quando la mamma muore. Allora, la tentazione qual è? Io sono sfortunato, perché fin dalla nascita, quando sono nato, è morta mia mamma. Se tu non riesci a percepire che Dio vuole trasformare quella tragedia passando per il presente, perché diventi un memoriale non di morte, ma di vita per la salvezza, una persona rimane bloccata. Mettete che una persona nasca cieca e dice io non ho mai visto il sole, non sono come gli altri, non ho mai visto la luce, non ho mai visto la realtà. pensate che come si solleva una persona. È facile che una persona proprio partendo dalla realtà dica io non sono come gli altri, perché io sono nato sfortunato. Ora, se non si parte da questa cosa che è una tragedia oggettiva e uno non crede che da quella tragedia lo Spirito Santo ne vuole trarre invece una rinascita, una vita nuova, noi non avremmo per esempio Bocelli. Perché Bocelli è uno di queste persone che... Ecco. Cioè il fatto che si si viva una tragedia ecco, può ipotecare anche il futuro, ma nelle mani di Dio può diventare anche un processo di rinascita. Dio ha questo processo di rinascita, sicuro. quindi quando una persona si affida veramente al Signore e non si lascia bloccare dalle sue valutazioni sul passato, il passato diventa servo di un futuro migliore e altrimenti diventa una catena che ti impedisce di vivere il futuro. Se diventa una catena che ti impedisce di vivere il futuro, quello non è lo Spirito di Dio, è lo Spirito del male che ti vuole infossare. E' così. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele che è una cosa importantissima che non ci dobbiamo mai scordare. Dio ormai è con noi. Io sono con voi tutti i giorni. Cioè oggi come oggi noi a livello di rivelazione divina dobbiamo dire noi tante volte fuggiamo da Dio ma Lui è sempre con noi. Anzi, se vi ricordate dice pure una cosa che ci sorprende. Sono disposto a lasciare 99 pecore pur di recuperarne una che si smarisce. Quindi non solo è con noi ma anche ci cerca. Cioè voi pensate quanta fede ci vuole per pensare che Dio vero e giusto giusto cerca a me. ci vuole fede è più facile pensare che Dio ha creato il mondo no? Che Dio ha creato il mondo su peggio non percepisce chi l'ha creato questo mondo. Cioè non posso ci vuole più fede nel credere che questo mondo è frutto di un caso che frutto di un'intelligenza perché tutto testimone che c'è un'intelligenza in questo mondo è giusto. Ecco credere che questo mondo è stato fatto da nessuno e che siamo qui per un'evoluzione casuale di una materia e ci vuole molto più fede di credere che l'ha fatto un intelligente perché tutto testimone che c'è un equilibrio un'intelligenza anzi voi pensate la scienza più scopriamo cose e più scopriamo altre cose più profonde e quindi la scienza andando avanti diventa testimone che c'è un'intelligenza superiore tant'è vero che è superiore alla nostra che noi ci stupiamo delle cose che scopriamo e come vuol dire mamma mia fino a un anno fa non si scoprivano queste cose ora abbiamo scoperto un'altra cosa quindi c'è una realtà che ci anticipa sempre come per dire le cose che scopriranno fra trent'anni ci stupiranno perché oggi manco le immaginiamo come quando pensate come quando scoprirono che c'era l'atomo e gli pensavano ormai abbiamo scoperto l'atomo scusa dopo che abbiamo scoperto l'atomo ormai conosciamo la materia ma quale l'atomo è una cosa che ormai pensate quando parlano di neutrini di cose cioè l'atomo è proprio una cosa elementare come vuol dire una cosa che ormai anche i bambini della scuola elementare ormai conoscono per questo vi dico ma quando hanno scoperto l'atomo diciamo mamma mia abbiamo scoperto che c'è una materia invisibile qualche cosa il mattone ecco per dirvi che tante volte veramente la realtà ci stupisce perché l'ha fatta uno che si capisce che è più intelligente di noi vedete questa persona così intelligente è anche una persona che ci ama e ci ha mandato il suo spirito e fa in modo che il tempo non sia mai negativo ma anche le cose più negative nel tempo diventano salvezza è bello questo sapete è una specie di riciclaggio come per dire Dio è capace di non perdere niente anche la morte che è la cosa più negativa diventa matrice di vita risurrezione ecco è una cosa sorprendente per questo dice ormai Dio è con noi noi non ci facciamo caso non siamo più lontani da Dio Dio ormai si è fatto uno di noi che è una cosa che tra l'altro da esalta la dignità della natura umana scusa se il creatore si è fatto creatura vuol dire che la creatura ha una dignità comparabile con Dio che la creatura non è da buttare che le creature sono hanno la dignità di Dio fatte immagini e somiglianza di Dio cioè è una cosa che esalta pure la natura e che avvicina a Dio questo brano della seconda lettera di Corinzi ci dice che di fatto ci vuole una anche il nostro assenso vedete infatti tutte le promesse di Dio in Lui sono un sì per questo attraverso di Lui sale a Dio attraverso di Gesù sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria ecco se noi diciamo il nostro sì il nostro Amen in effetti collaboriamo con Dio il problema è quando non diciamo sì quando non diciamo Amen ecco pensate per esempio certe volte anche mentre soffriamo dobbiamo anche accettare che quella sofferenza sia accolta da noi con un sì come quando Gesù nell'orto degli olivi ha detto padre se questo calice non può passare si compie la tua volontà e si è compiuta anche attraverso quel momento vi ricordo che se Gesù nell'orto degli olivi avesse detto no avrebbe salvato la sua vita personale ma non si sarebbe realizzato il piano di Dio che vuole salvare l'umanità per cui il padre preferisce sacrificare il figlio pur di realizzare la salvezza per tutti noi è bello questo fatto non ha pensato al suo figlio ha pensato a tutti i figli che avrebbe potuto avere ha pensato che in effetti siccome chi vede il padre chi vede il figlio vede anche il padre la sofferenza di Gesù nell'orto degli olivi è anche trasparenza della sofferenza del padre per cui il padre e il figlio sono sempre uniti non ci possiamo mai immaginare dice Gesù una difformità tra Gesù e suo padre perché sono la perfetta unità è giusto quindi Gesù che soffre è l'immagine del padre che soffre dello spirito che soffre perché loro sono una realtà divina e soffrono insieme mentre se ci fate caso una mentalità troppo umana ci farebbe pensare leggendo Gesù nell'orto come se il padre fosse sereno vedendo soffrire suo figlio addirittura una visione troppo umana potrebbe interpretare che è come se il padre non fosse sensibile alla sofferenza di suo figlio che ci disse no va quante volte mi capita che gente dice ma che sto pace buono ma nell'orto degli olivi dove è il pace buono è come non ha pietato il suo figlio che gli dice fammi passare sto calice ma non è così è come se il padre il figlio sono uniti nel voler salvare l'umanità e adesso si incoraggiano l'un l'altro nel dire non c'è amore più grande che dare la vita per gli altri quindi è una specie di coerenza con le realtà dell'amore e il padre e il figlio soffrono insieme insieme allo Spirito Santo e insieme gioiscono nella risurrezione sappiamo infatti il brano precedente l'abbiamo letto quello dell'amen è giusto? esatto va bene questo qua riguarda lo Spirito Santo il fatto che la creazione geme come le persone ecco questa è una cosa un po' delicata perché fa vedere che la creazione non è una materia morta la creazione è come un essere vivente che risente del peccato dell'uomo infatti il problema ecologico è il segno del peccato dell'uomo sapete il fatto che l'uomo peccatore egoista ha come frutto effetto collaterale diciamo del suo egoismo il fatto che distrugge non solo le persone ma anche la creazione quindi c'è un rapporto tra noi e la creazione è importante più una persona ha il cuore pieno di sapienza di amore di Dio più si avvicina al cantico delle creature di San Francesco vede nella creazione la lode di Dio più invece una persona è egoista più vede le persone le creature e la creazione come un'occasione per soddisfare se stesso e quindi distrugge gli altri ma anche noi tante volte dobbiamo stare attenti perché a volte quando noi siamo egoisti non ce ne accorgiamo ma noi tendiamo a distruggere gli altri voi pensate per esempio il caso di quella signora di vicino a Catane che ha ucciso suo figlio è un caso è un caso diciamo terribile però dovete pensare che tante volte senza volerlo noi scarichiamo questa volta ha scaricato la rabbia omicida ma tante volte non si arriva all'omicidio però si scaraventano i familiari sui bambini le proprie rabbie pensate per esempio quando i bambini assistono ai litigi quando i bambini per esempio scoprono cose terribili dei genitori ecco io mi ricordo da poco che ero sacerdote mi ricordo essendo giustamente uno sapete quando confessa nelle grandi città soprattutto i quartieri popolari sente cose terribili ma più di una volta ho sentito dire ragazzi a 12 13 anni 14 anni dice ma come possiamo fare con i miei genitori che si vedono i film pornografici cioè il ragazzo a 13 anni mi dice come devo fare con i miei genitori che commettono questo perché nel catechismo giustamente hanno imparato alcune cose poi vanno a casa e scoprono che i genitori sono proprio immorali ma dico immaginate a questi genitori tu che li dovresti fare questa è una specie di omicidio sapete perché quando i ragazzi vedono nei genitori che dovrebbero essere il loro sostegno la loro guida vedono cose che tu ci devi dire non guardare i tuoi genitori non seguire i tuoi genitori non fare che dicono loro cioè fai il contrario per trovare bene tu sei arrivato al punto proprio di sovvertire la realtà che dite voi ma è una cosa terribile io penso che è paragonabile a un omicidio una cosa del genere è come se tu lo uccidessi dentro non lo uccidi materialmente chi sta arrivando a ucciderlo materialmente ma certe volte certe volte la nostra condizione di vita è talmente distruttiva per gli altri senza che ce ne accorgiamo perché una persona tante volte non si accorge del male che fa si accorge del male che riceve vedete che è molto più facile per noi essere sensibili al male che riceviamo ma siamo molto molto impreparati a percepire il male che noi facciamo agli altri quindi sapete lo Spirito Santo quando noi facciamo l'esame di coscienza fatto bene ma non come una trivellazione l'esame di coscienza significa proprio la ricerca onesta della verità come dire signore fammi scoprire la verità su di me quanto io ho tendenze ipocrite tendenze egocentriche narcisiste di rabbia anche di tristezza di paure questa analisi di se stesso aiutata dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo è efficace mentre se la facessi secondo il mio io dice la Bibbia inutilmente l'uomo cattivo cerca il suo peccato inutilmente perché è come se a un certo punto lui stesso non è capace da solo senza possiamo dire l'aiuto della verità di Dio lo specchio della verità ecco noi abbiamo bisogno sempre di un di qualcosa di altro per poter conoscere noi stessi cioè se non esistessero gli specchi noi non sapremmo che faccia abbiamo quindi noi abbiamo bisogno per conoscere noi stessi di una realtà o altra che in qualche maniera ci faccia poi ritornare su di noi e se lo specchio è deformante noi abbiamo una visione deformata se lo specchio è vero noi abbiamo una una immagine realistica allora lo specchio vero della verità lo splendore della gloria diciamo nella primo capitolo della lettera agli ebrei c'è scritto che Gesù è lo splendore della gloria di Dio sulla terra quindi alla tua luce io vedo la luce io mi specchio col Vangelo e percepisco la mia realtà perché il Vangelo è verità infatti Gesù se vi ricordate ai suoi nemici disse a chi è figlio della verità la sapienza accoglie in me la sapienza voi non mi accogliete disse Gesù perché non siete figli della verità siete figli del maligno cioè seguite il maligno perché a chi è dalla parte della verità la sapienza splende e quindi ti affascina sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi non solo ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli la redenzione del nostro corpo quindi il fatto di essere figli di Dio ecco vi ricordo che la parola adozione nella nostra cultura erroneamente ha un valore anche tante volte possiamo dire non dico negativo ma come se fosse una cosa solo giuridica vi ricordo che invece l'adozione nella Bibbia è il fatto una fortuna perché prima non avevamo un padre e ora Dio è il nostro vero padre un padre vero per cui i sacramenti ci aiutano in questo sempre Romani 8 dice allo stesso modo anche lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente ma lo spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che esclude i cuori sa che cosa desidera lo spirito perché egli intercede per i santi vi ricordo i santi non sono quelli canonizzati i santi sono quelli che sono battezzati nella santità di Dio cioè i credenti sarebbero secondo i disegni di Dio quindi ancora una volta in Romani 8 noi abbiamo esplicitato il ruolo dello spirito santo mentre facciamo una cosa normale per esempio per religiosa il fatto di pregare ecco prendiamo coscienza che lo spirito prega in noi in un modo possiamo dire inesprimibile umanamente e che fa in modo che la nostra vita in qualche maniera si esprima con Dio attraverso l'azione dello spirito santo al di là delle parole per questo dice inesprimibile è come per dire mentre diciamo tutti il Padre Nostro ognuno di noi dentro quel Padre Nostro lo fa risuonare in modo diverso dagli altri ognuno di noi noi diciamo tutti il Padre Nostro all'unisono ma in ognuno di noi quelle invocazioni del Padre Nostro assumono una vibrazione un valore un significato che è legato alla nostra realtà personale quindi se una persona è nei guai risuona quel Padre Nostro in un certo modo se si trova in un momento di gioia in un altro modo se si trova in un momento di crescita in un momento di conversione è come per dire lo spirito santo al di là di quello che si può esprimere con le labbra parla ci fa parlare con Dio ci unisce a Dio in un modo tutto suo è come per dire ci dà una mano ci aiuta secondo il bisogno che abbiamo in un modo inesprimibile dal punto di vista umano prima lettera di San Giovanni chi osserva questo è sul rimanere sul Signore perché vedete passa il tempo passato presente e futuro ma chi rimane nel Signore viene trascinato portato verso il futuro in un modo possiamo dire estremamente fruttifico in modo che vuol dire passa il tempo e porta frutto vi ricordate l'albero che non aveva frutto fra l'altro vi ricordo che non era la stagione dei frutti per cui Gesù va vicino al fico e dice quest'albero non ha frutti giustamente uno potrebbe dire ma non è la stagione ecco vi siete mai chiesti come mai fa questo a Gesù Gesù fa questo per far capire che davanti a Dio è sempre la stagione dei frutti cioè non c'è una stagione in cui non si debba portare frutto o uno è giovane o uno è vecchio o uno è malato o uno è in altre cose in ogni caso ogni stagione della vita deve portare frutto ecco e questo è importante e il frutto lo porta nel tempo infatti il fattore dice lascialo ancora un anno io lo zapperò e quindi il tempo è la verifica che la mia vita rimane in Dio perché di fatto noi rimanendo nel Signore siamo sicuri che Lui ci fa crescere verso l'eternità e ci conduce attraverso anche diciamo la valle oscura ci porta i pascoli erbosi della vita eterna quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio voi però non siete sotto il dominio della carne vi ricordo che la carne su per giù dovrebbe essere tradotto con egoismo ecco egoismo umano ma dello spirito dal momento che lo spirito di Dio abita in voi se qualcuno non ha lo spirito di Cristo non gli appartiene è come per dire i fedeli in Cristo devono rendersi conto che non li deve guidare l'egoismo umano ma noi diremmo più concretamente la parola di Dio che è frutto dello spirito per essere concreti perché dire mi deve guidare lo spirito santo senza riferirmi alla parola di Dio ai Vangeli è un po' troppo teorico dico lo spirito santo mi guida ma non ho un riferimento oggettivo certo io ho un riferimento oggettivo che è la parola di Dio interpretata nell'ambito della dottrina della Chiesa e quello è il riferimento anche perché vi ricordo che Gesù ha detto a San Pietro e agli altri lo spirito santo vi guiderà la verità tutta intera ai suoi discepoli quindi è molto importante questo fatto che noi abbiamo la possibilità di lasciarci guidare dallo spirito perché vedete o mi guida il mio io o io mi riferisco alla parola di Dio e ubbidisco la parola di Dio così lo spirito santo attraverso la via della parola di Dio può operare in me quindi se una persona si lascia guidare dalla propria carne cioè dal proprio io egoista non può servire Dio invece se una persona volesse veramente servire Dio deve per forza lasciarsi guidare da quello che vuole lo spirito questo implica la rinuncia all'elaborazione di un mio mondo certo se io sono egoista e mi creo tutto un mondo di desideri che voglio realizzare nella vita in effetti rinunciare al mio mondo è necessario perché in effetti non si possono servire due padroni o seguo i miei piani certo se io elaboro un mio progetto secondo il mio io sapete quelle cose che noi diciamo ho i sogni nel cassetto allora se io seguo i sogni nel mio cassetto fin da bambino e mi seguo il mio io è una strada se io invece interpreto la vita come un camminare con Dio io per forza devo adattare la mia vita a quello che mi propone il Vangelo e devo aver fiducia in Dio più che nei miei sogni ma non tutti sono disposti a rinunciare ai propri sogni personali per aderire ai sogni di Dio e ci vuole in effetti molta fiducia nel Signore in fondo è uno degli elementi che determina poi purtroppo il fallimento della vita perché nella vita ho seguito i miei sogni senza crearmi l'idea che siano coerenti con la sapienza di Dio perché vi ricordo che i sogni o ad occhi aperti o a occhi chiusi quando dormiamo i sogni sono sempre ecocentrici cioè sempre l'io che sogna ma mentre i piani di Dio sono teocentrici cioè è Dio che ci offre un progetto che coinvolge tutta l'umanità quindi quello che mi propone Dio è in armonia con tutti gli altri uomini quello che elabora il mio io in effetti è concorrente agli altri uomini cioè il mio progetto è contrario al tuo immaginate per esempio in un ufficio dove ci sono due arrivisti ognuno vuole diventare direttore e quindi ognuno ci vuole fare i scarpe all'altro pensate che situazione no? mettete che in un ufficio ci sono due impiegati che tutti e due da bambini sognano di diventare direttori e se sono giustamente giusto giusto vicini cioè quei due diventano concorrenti e nemici ognuno se può distruggere l'altro lo distrugge perché deve realizzare il suo sogno invece il piano di Dio non crea mai concorrenza il piano di Dio crea sempre armonia tra le persone ecco è come quando San Bernardino da Siena era il segretario di un grande predicatore dopo alcuni anni che questo cioè il segretario di questo grande predicatore francescano quel predicatore famoso si accorse delle qualità di San Bernardino che era il suo segretario ci disse guarda facciamo una cosa che è meglio che è meglio per Dio fai tu il predicatore io faccio il segretario perché per il Dio è molto più e infatti diventò il grande predicatore San Bernardino da Siena ma perché un suo superiore umile ti immagini un superiore che a un certo punto si accorge delle qualità del suo possiamo dire del suo segretario e dice e fa di tutto per non farsi scalzare invece quello là giustamente vedendo le qualità del suo segretario si disse guarda io ho fatto il mio tempo ma è meglio che diventi tu il predicatore perché mi rendo conto che tu ne sei molto più di me e hai un carisma più grande ecco vedete il piano di Dio non crea mai la guerra la concorrenza il piano di Dio crea sempre l'armonia perché è come dire tutti concorriamo a un fine che è il bene di tutti invece i sogni i sogni sono sempre egocentrici ecco si sogna di emergere sugli altri si sogna di avere successo si sogna in qualche maniera di mettere se stessi al centro di tutto e così si alimenta molto la superbia la venetà il narcisismo e in qualche maniera si vede gli altri come nemici perché poi cominciano proprio ad alimentarsi anche queste paranoie poi perché perché a un certo punto i grandi dittatori tendono sempre a ammazzare tutti credo che l'ipotesi che sono nemici perché si vedono circondati sempre da potenziali nemici per cui non vi dovete stupire che quello lo avvelenano la vi ricordate Navalny lo avvelenano l'altro cosa ecco quando si dice che il dittatore questo qua nordcoreano ha fatto uccidere con sua sorella l'altro fratello perché aveva paura che lo scalzasse perché ognuno vede nemici a tutte le parti perché di fatto avendo lui tutto nelle mani vede gli altri come nemici e questa è una cosa terribile ma allora questo è il penultimo brano che riguarda proprio l'azione dello Spirito Santo che si svolge nel tempo per cui il ricordo del passato diventa possiamo dire la pista presente per la realizzazione futura quale accordo tra tempio di Dio e idoli noi siamo infatti il tempio del Dio vivente cioè Dio vive dentro di noi come Dio stesso ha detto abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo e come per dire mi devo rendere conto che mentre io vivo nel tempo l'eternità vive con me ecco vi ricordate che Gesù ha detto anche quando date un bicchiere d'acqua quel bicchiere d'acqua ha il suo riferimento nel regno di Dio perché Dio condivide con me la storia cioè in fondo la storia non è solo un evento temporale ma in ogni istante della storia vive l'eternità e quindi sapete è come dire già il regno di Dio è stato presente quando arriveremo in paradiso il tempo che avremo vissuto sulla terra sarà un tempo che possiamo dire attuale non sarà un ricordo del passato così ecco sarà farà parte della nostra vita eterna perché fin da ora la presenza di Dio in mezzo a noi vedete Dio abita con noi e quindi il tempo che passa non è un tempo che decade è un tempo già eterno l'eterno presente diciamo così andiamo avanti l'ultimo passo di oggi è sempre sullo stesso custodisci mediante lo spirito dice a Timodio San Paolo custodisci mediante lo spirito che abita in noi il bene prezioso che ti è stato affidato ecco questo è bello perché ci fa capire che nel passato il Signore ci ha dato dei doni io ho il compito di custodirlo perché lo spirito santo lo porti a frutto e non cade niente mentre la persona atea pensa che nel futuro tutto finisca nel nulla al contrario quello che abbiamo detto dallo spirito santo tutto è già eternità vedete è proprio una versione completamente diversa ecco voi pensate come si svaluti la vita per tante persone atei che non credono al regno di Dio pensate è come se o essere maceteresa o essere Hitler in fondo non ha nessun tipo di risvolto come puoi dire quando sono morti dice l'addio quando muore maceteresa o muore Hitler o Stalin in fondo hanno lo stesso destino cioè non c'è niente invece il Signore ci dice che quando muore maceteresa si realizza l'eternità perché già nella storia aveva mostrato il volto amoroso del Signore mentre quando muore un dittatore che ha ucciso milioni di persone dobbiamo sperare che sia convertito che nel purgatorio si purifichi di tutte queste cose perché ha ucciso milioni di persone cioè il valore della vita ce lo dà il riferimento alla vita eterna i frutti ecco se per esempio una vigna in ogni caso non porta frutto è inutile che ci lavori scusa cioè in fondo perché lavoriamo per i frutti uno perché va in campagna perché deve cogliere i frutti ma se uno in anticipo sa che non coglierà i frutti dico e che ci vado a lavorare che mi interessa ma piglio un reddito di centenanza cioè nel senso di dire ecco per carità forse hanno aiutato molto il reddito di centenanza tante persone però ci sono tante persone che hanno approfittato del questo reddito perché li ho sentite io non mi conviene andare perché tanto io già mi danno 600-700 euro mi faccio un po' di orto mia moglie mi guadagna 900-700 euro potremmo campare e tiriamo i remi in barca onestamente è la logica non dico in se stesso è la logica che secondo me non è educativa penso per il popolo italiano poi non lo so perché come siamo fatti noi approfittiamo subito di una cosa del genere perché se tu gli dici per esempio a uno scusa mi fai con la moto falce no ma non mi conviene fare perché io già ho quello che non mi interessa guadagnare 50 euro per farti il coso perché di fatto già mi assicurano che io posso campare senza lavorare onestamente davanti a Dio al di là non mi interessa la mia politica però davanti a Dio questa idea perché la Bibbia ci dice chi non vuole lavorare neppure mangi e invece tante volte la società tende a dire o ci voglio o non ci mangi ma in giustizio però onestamente Gesù Gesù ha fatto il falegname per lavorare ecco si è sempre vantato del fatto San Paolo faceva tende dico ognuno di noi il fatto il lavoro per noi il lavoro per noi è un è anche fare la volontà di Dio lavorare quindi è molto importante in una società dove c'è denatalità quindi non si ha desiderio di creare vite nuove dove si tende a non lavorare o a lavorare meno possibile è una società o anche addirittura oltre a lavorare meno possibile si tende a sfruttare anche il lavoro degli altri perché per esempio da noi è molto attuale il fatto di dire sapete mi fai un lavoro ti lascio solo un anticipo poi ti darò un'automiglia e te li darò poi però da noi è quasi normale vedete perché ci sono artigiani che mi dicono chi doveva dare 500 euro chi doveva dare 2000 chi doveva dare 1000 ma quando mi durano io questa logica che è terribile onestamente se noi parliamo del Spirito Santo di sacrificare la nostra vita per il bene in effetti la società in cui viviamo ci accorgiamo che veramente lo Spirito Santo trova ostacoli perché lo Spirito Santo tende a valorizzare la vita dell'uomo tende all'onestà tende al bene tende per esempio a rispettare gli altri pensate per esempio per noi cristiani tanto per concludere questo nostro incontro pensate per noi dar la paga agli operai che sarebbe Giacomo capitolo 5 è la volontà di Dio cioè una persona lavora tu che gli dai la paga dice San Giacomo tu stai realizzando la volontà di Dio perché rubare la paga agli operai c'è scritto in San Giacomo è un peccato che grida al cospetto di Dio è terribile si si grida vendetta si si al cospetto per questo dico se noi ci allineiamo con quello che lo Spirito Santo ha scritto nei Vangeli o diciamo nella Bibbia in generale e noi adeguiamo la nostra vita ai Vangeli e sapete uno dice ma io devo stare attento perché non è che me posso comportare cioè perché lo Spirito Santo io vado contro lo Spirito Santo se addirittura lo Spirito Santo ci dice che dobbiamo amare i nemici vi ricordate oh amare i nemici ci vuole coraggio sai siamo veramente o come dicevamo ieri sera fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te non non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te ma fallo agli altri quello che tu vorresti fosse fatto a te tu vorresti che una persona ti sorrida sorridi tu tu vorresti che una persona ti aiuta aiuta tu prima fai agli altri quello che vorresti Ecco, onestamente devo dire che più una persona si abitua a ragionare come lo Spirito Santo rivela nella Bibbia, soprattutto nei Vangeli, più una persona percepisce quanto tante volte la società è abberrante contro la sapienza. Cioè veramente si alimenta il male. E non ci possiamo stupire che poi scoppiano le guerre, perché giustamente se a livello personale uno ha la guerra dentro, figuratevi che poi fra le nazioni è facile che ci siano guerre, interessi diversi. E' un problema serio. Il povero Papa onestamente per ora è veramente desolato per quella situazione mondiale che stiamo vivendo. In effetti Papa Francesco è una figura morale che in effetti trasmette sofferenza quando parla, perché giustamente lui è la cassa di risonanza di tutti i problemi del mondo, perché tutti ci vanno a conto i problemi a lui. Cioè convergono su questa persona tutte le parti del mondo che si riferiscono a lui. Quindi poverino, in effetti dobbiamo sempre pregare per il Papa, perché dobbiamo avere questo spirito universale, perché noi siamo nel mondo e dobbiamo pensare al bene di tutta la famiglia del mondo. E' una visione veramente diversa. Ecco, io mi auguro che questi quattro incontri che abbiamo fatto, quattro incontri sull'opera della memoria, come memoriale di salvezza e anche sulla Pentecoste, possano servirci per poter veramente adeguare la nostra vita al Signore e poter portare frutto secondo quello che dice lui. Perché è l'unica vera prospettiva positiva del futuro.